Il primo classificato di Sherbet 2023, premio Francesco Procopio Coutot, è Socolà all'origine del cioccolato, Fabio Marasti e Letizia Giori. Allora, il premio andrà in mezzo, ragazzi, lo porteranno in mezzo, giusto? Sì, sì. Uno, due, tre, cioccolato per sì. Vieni, 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 ammazza che bella ragazza. Uno, due, tre, scendere, premia, e un di tre, finisce, si conclude. Anche in questo concorso c'è il premio anche qua dello sponsor, ti viene dato, fate una foto. È un'emozione indiscrivibile vincere un premio così importante nel paese del gelato. Sì, è un cioccolato fatto con ingredienti semplici, che permette anche di economizzare molti rifiuti, perché prendiamo il mucilaggine del cioccolato per risparmiare il 40% del rifiuto. Per me è una famiglia, dal primo giorno siamo stati accolti veramente come si fa missione a casa. Sono gli ultimi, l'ultimo, se la chiede, il concorso per lo contendere.